E' buono, eh? Poi quando arrivo lì, apro il cofano, potevo scalzare, se non buttare il ciugno. Quando ci siete voi, mi guarda. Fede, però mi stava a far ingrassare, ho capito, se non lo vuoi lascia. No, ma per... Sto assaggiando tutti i siti. Oddio, oddio. Devi guardare l'altra parte. Tu non lo guardi. Non lo guarda. Tec... E un po'. Grazie.